vpc loll salam alaikum salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di assassin credo mira c'è sempre io walt alif il fondatore di vpc loll che a volte abbiamo continuato l'esplorazione in baghdad dopo che siamo entrati nella città rotonda siamo scesi nel distretto di khark e ci manca solo il visto dei bassi è stato nel lato sud ovest stiamo facendo da qualche episodio missioni secondarie così facciamo un po' non c'è niente foto di bassora ufficio inventare cosa che volevano borsa collezionabili allora i nostri indagini lui aveva prima facciano contratti il furto dello specchio dove si trova questo dobbiamo andare proprio nel ah minchia qua vabbè ruba la chiave ok vabbè qui inutile che stiamo perché qui non c'è nessuno quindi via vieni si era quello che è ecco l'acqua del tigre no così l'eufrate non passa di qua mi pare no l'eufrate non passa baghdad la ferita superficiale ma ha lasciato una bella cicatrice ok va bene andiamo avanti vediamo se ci sono vabbè i soliti i soliti guardi vabbè qui non c'è nessuno io vedo diciamoci verso sono dei duri non per vantarmi ma ho mozzato le orecchie a sette di loro ok andiamo qua tenuta della studiosa ah logo scoperta aspetta qui c'è una zona vietata qua ok qui dobbiamo infilarci ora aspettiamo nulla può sfuggirci anche tu vai ah è tipo una zona sorvegliata vabbè va bene ok ok il è molto qua il è molto qua il è molto qua Andiamo di qua. Però non andiamo lì, aspettiamo prima di andare là. Ok. Ham Ham. Quindi qui c'è tipo un bagno turco. Oggi dobbiamo infiltrarci qua dentro? Vabbè. Facciano quello che vogliono. Ok. Ecco chi alla chiave. Si, si, va bene. Ok. Dobbiamo infiltrarci qua dentro? Vabbè. Non uccidere nessuno. Non è che sia facile, raga. Ok. Ok. Stiamo qua dentro. Ok. Assicurati che gli ospiti abbiano sempre da bere. Ok. 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 Ok Che gioia vedervi Assicurati che gli ospiti avranno sempre da bere Ok Stile Basside Mi faccio vedere con tutti questi Che gioia vedervi Non fate complimenti servitevi Insiste Che gioia vedervi Bene Vediamo se li sciamo qua Non ci sono Non ci sono Non ci sono Vediamo se si può fare Non ci sono Che gioia vedervi Non fate complimenti servitevi Insisto Ok Ho la chiave Ora avrò il mio trofeo Dovrei partecipare ad altre feste Ok Vediamo 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 come bello come bello come bello non posso crederci io pensavo che gli ufficiali dovessero essere disciplinari a quanto ho visto è tutto il contrario c'è corruzione ai piani alti non posso crederci io non posso crederci io non posso crederci io Ok, mi chiedo di non farci vedere Oh, qua c'è il guardiano Qui ci riguardi Oh, qua c'è il guardiano Aspettiamo che è distratto Ok, sì, dobbiamo girare come veri assassini qua Ok, questo guardo di qua Vediamo se ne va, ok Aspettiamo che sono distratti così Ci infiltriamo È un bello oggetto Ma non posso fermarmi ad ammirarlo Ok 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 Aspettiamo per quella Perfetto 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 Eccolo qua Ecco il punto di consegna Il pezzo finirà in buone mani Ok Ok Di talento 2 Infatti Infatti ne abbiamo Ne abbiamo fatta una Ok 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 Allora Un Ok 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 Ecco ok 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 e qui ci siamo vabbè qui ci torneremo dopo cosa è rimasto? no eh indagini contratti dove cazzo sta questa? finché da l'altra parte vediamo dove possiamo però prima andiamo a sbloccare un teletrasporto così almeno ecco là dove dobbiamo andare ok 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 bene qua perfetto andiamo qua moschea abbiamo una delle tante non è che c'è una mosca specifica diciamo che non ci deve durbare la mosca in questo caso ok enigma e dobbiamo salire sulla che famoschera ok sali eh che panna sali qua andiamo qua sopra no vai su e sali però che panna che panna voglio quanto fare sti così eh niente puoi grapparsi sto colpo no 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 ok perfetto no devi salire sopra ok risicorizziamo pure questo punto ok adesso scoperti perfetto ora però torniamo qua città trasportiamo siamo riusciti a fare una missione rispettando l'obiettivo non è stata semplice ma non è neanche troppo difficile è bastava semplicemente non farsi scoprire muovesse come un assassino tutto sommato ora sono acabata abbastanza bene bisogna capire se queste missioni avviano un trofeo perché se no è un problema sicurizzo ma abbiamo già sicurizzato assassino il capitano fammi usare i tuoi occhi vedo il bersaglio sono i mercanti sono i mercanti qua ok non è stata la biologia segnalizzata ok saliamo adesso se ci fa salire questo pozo non saremo di qua mi serve il tuo aiuto non volare su quell'area ok il posto è questo è tutto in zona ok grazie a tutti grazie a tutti la sua favorita è una spia perda ok ok che appena si allontana questo assasiniamo tutti tiratore tiratore ora devo sparire facciamo il nostro lavoro e non ce ne pentiremo facciamo il nostro lavoro e il nostro lavoro e il nostro lavoro e il nostro lavoro facciamo il nostro lavoro e il nostro lavoro e il nostro lavoro e il nostro lavoro facciamo il nostro lavoro e il nostro lavoro facciamo il nostro lavoro e il nostro lavoro e il nostro lavoro ok perfetto 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 ok dobbiamo assassinarlo, prima dobbiamo lasciarlo scoperto ok perfetto anche questo è stato fatto in modo perfetto abbiamo tenuto un sacco di materiali ok Oh, oh. Perfetto, l'inventario, ok, ok, grazie del principe, ci devo tornare. Ok. 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 Questa non serve, qui è ancora effettuata, ok, coltelli da lancio, livello 2, punto avvelenato, avvelena, insonente gli amici colpiti, così di caricare il lancio per aumentare la distanza e i danni, ah! Tipo, una affilata, anche il grautei possiamo sbloccare, ok, allora questa è la perforazione, bene tra l'armatura per infliggere danni standard, volatizzati di somme, i cadaveri debbi essere accesi con il coltello, ah, questo ci serve, qui mettiamo quella perforando, ok. Sei soddisfatto? Sì, sì. Ti ringrazio per l'assistenza. Arrivederci. Perfetto. Questa è una casa qualcuna, ok, e qui abbiamo fatto. Allora potremo continuare con le missioni, non so se c'è qualcosa altro, ma... Questa è un pò, 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 è un pò. Allora potremo continuare con le missioni, non so se ci sono, ma qui abbiamo fatto. Allora, cosa si vede, sembra? Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Allora, è un pò, è un pò, è un pò. ancora 200 metri dobbiamo fare vabbè ah non volevo passare sopra va bene pazienza non andare qua non 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 ... ... Ok. E voi cosa? Ok. Dobbiamo pensare che abbiamo trovato tutti, dar via. Ok. 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 Ora è tempo che io ritorni allo studio. Che Allah ti protegga. Ok. Qui sono davanti alla prigione. Voglio fare il vecchio modo proprio. Libera Ali ibn Muhammad. Il cavo del minore è un alleotto degli occulti. E' stato fatturato e condotto nella prigione più sovieti di Baghdad. E' tra l'altro fatto facile. E' una valuta rara ed è possibile crederle a chi ne apprezzo il valore. Che pensi che si sono fatti un bel po' di quanti si sono fatti. Sì. Ormai si è fatta un 50 minuti. Vabbè raga. Nel prossimo episodio di Assassin's Creed Mirage troveremo un modo per infiltrarci nella prigione della porta di Damasco per liberare questo Muhammad ibn qualcosa. Ci si vede. Ciao alla prossima. Come dicevo in arabo. Iscriviti sui social. Ciao.